I muetasi nel 2014 sono costate 39,8 milioni ai piacentini, pari a 391,4 euro per abitante. Emerge dall'ultima indagine del Store 24 Ore che ha calcolato le entrate dovute alla tassa sugli immobili nel 2014. Piacenza si piazza al ventesimo posto della classifica con un dato medio che è comunque inferiore rispetto alla vicina Parma che registra 392,5 euro ad abitanti. In pole position c'è Padova dove le entrate in milioni sono 141,4 e i costi per abitanti sono 668,3 euro. Dinamiche quindi che mostrano forti differenze territoriali che dipendono in parte dalle scelte fiscali dei singoli comuni. Avverte però il Store 24 Ore, il gettito pro capite non indica il conto medio per le famiglie perché comprende negozi e alberghi che alzano nettamente il dato.